Sto rosolando uno scalogno un minuto a fiamma alta sul fornello medio. A fiamma alta poi inserisco il salmone e un pochino di vino. Ho lavato dei cavolini di Bruxelles, tre etti e mezzo, e li ho tagliati a metà. Le aggiungo poi al salmone con una tassina da caffè di acqua. A fiamma alta per un minuto e mezzo, poi bassissima. Prima di abbassare al minimo aggiungo dei pezzettini di pomodoro e di simolo. Dopo 15 minuti a fiamma bassissima controllo, alzo la fiamma per un minuto e poi spengo e lascio in autovettura. Cotto! Guardate che belli i colori delle verdure. E vi ricordo che il salmone era sul gelato. L'ho messo direttamente sul gelato. Il piatto leggero ma assaporito. Grazie.